Taglio del nastro per la quarta edizione del Cortona Mix Festival che dà il via a nove giorni di appuntamenti ricchi di intrecci culturali, nuove prospettive, inediti accostamenti musicali, atmosfere da favola. Da oggi entra in attività l'inconfondibile shaker di musica e teatro, letteratura e cinema, intrattenimento e riflessione, benessere e formazione. Siamo stati molto contenti di inaugurare questa nuova edizione che è un'edizione ancora di qualità, ancora più importante, con tantissime collaborazioni fuori e dentro il territorio cortonese. La nostra vocazione è sicuramente quella del turismo, della cultura, della promozione di tutte quelle che sono le arti. Attraverso questo festival e gli altri festival che ci sono anche attualmente in corso riusciamo a fare questo, sempre con un'attenzione importante a coinvolgere tutto il territorio perché già il territorio di Cortona è ricco di cultura, di tradizioni, di storia e riesce in qualche modo a dare tanto anche ai tanti turisti che vengono a visitarlo. Conclusi il varo di questa quarta navigazione culturale, Carlo Feltrinelli ha inaugurato la mostra Feltrinelli 60, idee, scelte, storie che fanno futuro, dedicata all'anniversario della casa editrice. Organizzata in 12 capitoli, l'esposizione ripercorre momenti salienti di un'esperienza straordinaria, testimoniata da documenti, fotografie e aneddoti. Quest'anno siamo al quarto anno del Mix Festival ma celebriamo insieme a Feltrinelli 60 anni di attività di questa casa editrice che ha segnato la letteratura, la cultura italiana. È un momento importante per Cortona, è un momento importante per tutto il territorio, è un festival che è diventato un riferimento per tutta la regione toscana e siamo convinti riesca a dare una prospettiva su quello che deve essere l'offerta culturale di questa zona.